Sabato 26 gennaio alle 17, sul ring del Tarantini Fight Club di Via Venezia, si svolgerà a Sasseri la 25esima edizione del Muay Thai Explosion, l'ormai celebre e più longeva manifestazione italiana di questa disciplina marziale thailandese nota come l'arte dei re. Alla Muay Thai Explosion hanno partecipato nelle edizioni precedenti i migliori atleti del panorama internazionale, come i campioni mondiali delle federazioni WMC, WACO e KL e ovviamente gli atleti sardi che successivamente si sono qualificati tra i migliori. Sabato in Via Venezia saranno presenti le più importanti scuole regionali di Muay Thai con le categorie fanciulli, giovanili e professionisti.